Ciao, sono Martina e come Extinction Rebellion abbiamo deciso di dipingere con i colori della bandiera del Pride le strisce pedonali sotto il grattacielo della regione Piemonte. Da anni ormai il governo italiano e il governo regionale hanno costruito una narrazione assolutamente antiscientifica di quella che loro definiscono ideologia gender e ideologia green, utilizzandole come pretesto per schiacciare i diritti civili e minimizzare la gravità della crisi climatica ed ecologica. Ad essere ideologica è la scelta di disinvestire nel carbone entro il 2035, in aperto contrasto con quello che la comunità scientifica ci chiede di fare da più di 30 anni. Ad essere ideologica è la scelta di negare il diritto a bambine e bambini di vedersi riconosciuti dallo Stato e entrambe le figure genitoriali. La regione Piemonte e il governo regionale, così come hanno confermato durante il G7, calpessano i diritti mentre il mondo brucia. Ed è questa di essere una scelta ideologica e noi non vogliamo più rimanere in silenzio a guardare.